In fondo nella vita abbiamo due imperativi categorici, che è mangiare e la procreazione. Che cosa mi hai detto prima che partissi? Qualc'altro luogo? Sud Forno. Mi ricordo, sì, mi ricordo, quando chiudo gli occhi, mi ricordo la prima volta. Almeno il caffè è buono. Chi è quella bellissima creatura? Che volto! Che portamento! E che pelle meravigliosa! Ok. Se lei viene qui oggi, le farò un bel sorriso. No, no. Aspetta un minuto. Fingerò di essere freddo con lei. Nessun sorriso. Non la guarderò nemmeno. Marco, cosa fai? Lavora, mio caro. Lavora. Per sognare occhi aperti. Per sparmiare i sogni per il letto. Ci sono tanti ragazzi che vengono qui. È come una dolce trappola per belle donne. Ok, risparmierò qualcosa per il letto Grazie per la visione 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 Grazie per la visione